C'è il brigante nella casa direttamente dagli studi di PopTV, dietro di me la scenografia di Made in Italy, il programma di PopTV dedicato alla scena italiana, sono qui per parlarvi di un altro appuntamento fondamentale della scena italiana, le serate selecta, al Vox di Nonanto, la provincia di Modena, quest'anno abbiamo veramente esagerato, live da qui a fine anno, Marrakesh, Nois Narcos, Nesli, Vakka, Babaman, veramente il meglio della scena italiana e soprattutto questo sabato inauguriamo, io ho la fortuna di essere il resident DJ di selecta, una delle serate un po' più importanti d'Italia, grandi novità per tutti i rapper emergenti, per chi ama fare contest di freestyle, quest'anno abbiamo un privé che si chiama The Block, dedicato soprattutto a voi, vi aspetto quindi sabato 1 ottobre, inaugura selecta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!